Cari amici e carissime amiche di YouTube e di tutti i social, benvenuti in questo nuovo video del vostro YouTuber prediletto, preferito, Vincent Lionheart, più selvaggio che mai. Oggi, nuovo video del signor patente. Signora Postino, sto ancora aspettando la patente che non mi è ancora arrivata. Come bisogna fare adesso, signora Postino? Eh, non ho capito. Sono passati 20 giorni e fra poco arriviamo a un mese e non arriva proprio niente. Adesso mi sto proprio ingazzando. Eh, speditelo in qualche modo, non so, mandatelo col frarabotto che forse fa prima. Eh, 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 se qua non mi arriva, voi non sapete, mi dite una scusa, poi un'altra scusa ancora e così via. Ma allora mandate sul frarabotto, col frarabotto parte meglio, arriva meglio forse, signori. Eh, non ho capito, Postino. Postino, allora ci vogliamo svegliare con queste poste o vogliamo continuare a dormire? Sì, scusate, non è per fare polemica. Io non è che voglio sollevare la polemica. Però adesso, dopo quasi un mese, 20 giorni tondi tondi, mi sto proprio ingazzando proprio nera mente. So cosa si può dire, non lo so, però, dai. Adesso aspetto un altro po' e poi devo prendere prove e demandi. Eh, che è l'unica cosa da fare. E va bene, allora dai, aspetto un po' e poi ci si vede la prossima puntata e vi faccio sapere se è tutto a posto, se è tutto risolto. Ok? Alla prossima puntata col signor Patente. Bye, bye, cari signori, cari signori. Bye, bye. Bye, bye.